Buongiorno, ben trovati all'appuntamento di giovedì 21 giugno 2018 con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa per la lettura dei quotidiani. Oggi in edicola, come sempre, apertura dedicata ai titoli principali dei quotidiani abruzzesi. Iniziamo con l'edizione di Pescara del centro, vedete alle mie spalle, ecco qui il titolo inquadrato a tutta pagina. Alessandrini finisce sotto inchiesta, Pescara nel mirino del PM, uno scarico inquinato a Fosso-Vallelunga. E poi vedete a centro pagina, quella di ieri è stata la prima giornata della maturità. I ragazzi pescaresi scelgono solitudine e propaganda per quanto riguarda la prima prova, quella di italiano, valida per tutti gli indirizzi scolastici. Vediamo anche le cronache, l'inchiesta di Rigopiano sfila Ginoble due ore davanti ai PM. E poi Pescara rispunta l'area del Parco Nord per i posti auto. E poi siamo a Popoli, due bottiglie avevano l'acqua contaminata. Vediamo anche altre notizie che riguardano Pescara e provincia. Ieri in Città, Palazzo di Città, per meglio dire, il giurista Sabino Cassese ha parlato della macro regione. E poi Saga, nuove iniziative in cantiere. Si punta sul turismo religioso. Vediamo in alto, si parla invece di sanità in questo caso. L'Abruzzo al Ministro Giulia Grillo. Servono assunzioni e nuovi macchinari. Queste le richieste dell'assessorato regionale alla sanità. Vediamo anche un titolo in basso, anzi più di un titolo per meglio dire. Vediamo questa storia che arriva dal Trentino Alto Adige. Sei pescarese, niente casa, studentessa denuncia. Mi hanno negato l'affitto in Trentino. E poi i mondiali di calcio. Ronaldo Show, Uruguay e Spagna, quanta fatica. E poi a Sulmona, per la festa ovidiana, Cirilli premierà giovani artisti. Vediamo anche la prima pagina di L'Aquila, Vezzano e Sulmona del centro. In questo caso l'apertura è dedicata alla cronaca. Cade dal tetto. Grave un operaio, incidente all'Aifondri durante i lavori di una ditta esterna. E poi a Sulmona, la cronaca, gente sfregiato in carcere con l'olio bollente. All'Aquina rubano la borsa all'assessore al torneo di calcio. Vediamo in basso altri titoli. In questo caso uno in particolare che riguarda il calcio di serie D. Conti sarà una grande L'Aquila, l'ex bandiera della Roma, consulente della nuova società. Ieri Bruno Conti è stato all'Aquila. E dunque per quanto riguarda la società Rosso-Blu, si guarda con grande fiducia la prossima stagione. Ma bisognerà sistemare le questioni societarie e al lavoro l'imprenditore romano Gianluca Ius. Vedremo se nei prossimi giorni, nelle prossime ore, arriverà l'attesa fumata bianca con il passaggio della società all'imprenditore Capitolino. Siamo alla prima pagina del centro, edizione di Teramo. Teatro romano, sfidanti d'accordo, ballottaggio a Teramo, Morra e d'Alberto. Dicono no alla copertura e poi la cronaca giudiziaria, processo a Teramo, il cantoniere, mazzette, soldi a mia insapute. Poi il lutto, la politica rosetana, ma non solo rosetana perché è scomparso l'assessore Frattari. Vediamo anche un titolo in basso. Abbandonate 14 tartarughe, aperte un'inchiesta a Roseto, sono state lasciate davanti ad un ambulatorio veterinario. Vediamo anche la prima pagina di Chieti-Ranciano-Vasto per chiudere il quadro sulle prime pagine del centro. Siamo a Chieti-Negozianti, ora annullate le multe. La richiesta sulla ZTL dopo la decisione di cambiare l'orario. Siamo a Tollo, furti di gasolio nelle rimesse, tre arresti da Tollo. Ci spostiamo a Lanciano, pista ciclabile, ok. Il collaudo, ma è incompleta. Vediamo anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Bimbi intossicati dal formaggio, 200 piccoli finiti all'ospedale. Le prime analisi riscontrano la presenza di batteri, solo una piccola parte dei campioni. Non risulterebbe positiva. In corso le indagini finali. Leggiamo da questo articolo, da questo sommario dell'articolo che poi troveremo all'interno del giornale. E poi ad Avezzano, quest'altro titolo, la cronaca precipita dal tetto dell'Aufondri ad Avezzano. Vediamo anche l'articolo di spalla sulla scia di Romito. I big mondiali della cucina, gli abruzzesi che hanno ottenuto i premi al World's Best Restaurant. E sono davvero tanti la cucina abruzzese. Si fa onore anche fuori dai confini, oltre che regionali, anche nazionali. Siamo all'inchiesta di Rigopiano. La verità di Ginobili per ora è top secret. Valanghe, l'ex assessore, parla solo con il PM. L'interrogatorio di D'Alfonso slitta al 28 giugno. Giugno. Vediamo in basso un altro titolo. Teramo, nuovo bunker sotto il Gran Sasso. Lo sostiene l'associazione, il forum dell'acqua. E poi a centro pagina, vedete la foto, agente carcerario ustionato dal detenuto. Il gastolano gli ha scagliato addosso olio bollente. Vediamo in alto poi i titoli che riguardano la cultura e lo sport. Il sport Mediterranea, una regata per festeggiare i 30 anni del porto turistico. E poi l'Aquila a calcio, Conti dice sì, al lavoro per la società Rosso Blu. E poi il Pescara, il giovane bomber Tutino, corteggiato dalla società Bianca Azzura. Tutino che ha ottenuto recentemente la promozione con il Cosenza in Serie B. E' stato tra i protagonisti della formazione silana, tra l'altro Cosenza che ha ottenuto la promozione in Serie B proprio nello spareggio di Pescara con il Siena. Siamo al quotidiano La Città, siamo a Roseto, Roseto il lutto per l'addio all'assessore. Il socialista Tonino Frattari muore per le complicazioni di un'operazione. Sabato si terranno i funerali, ovviamente anche dalla nostra redazione, le più sentite condoglianze alla famiglia di Tonino Frattari. Siamo a centropagina, lo vedete, Teramo al voto, io voto d'Alberto, Ciarroni ex segretario del sindaco Brucchi. E poi la sanità, cardiochirurgia a Teramo, il suo primario Michele Trigiani, d'Alecco primo al concorso della ASL. E poi a proposito di elezioni, Scordella fa appello al patto giallo-verde, siamo a Silvi, Teramo al balottaggio quartieri, firmano i due contendenti. E poi la ASL di Teramo ricorda la dottoressa Esther Pasqualoni, questo tragico anniversario della scomparsa della dottoressa che lavorava all'ospedale di Santomero. Siamo in basso per parlare invece di calcio, Teramo e Candeloro cos'è che è andato storto nella trattativa. Lo dice il patron del Teramo, Luciano Campitelli. Lasciamo dunque le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, oggi in edicola. Vediamo invece l'edicola nazionale, partiamo dal Corriere della Sera, vertice dell'Unione Europea, l'Ira dell'Italia, bozza d'accordo ma conto al veto. Il contropiano stop a Dublino, Salvini se è tutto deciso meglio non andare, Trump cede e riunisce le famiglie al confine. Dunque ancora polemiche tra alcuni paesi dell'Unione Europea. Maturità dall'arte a Bassani, temi preferiti, oggi la seconda prova. E poi un titolo che riguarda il commercio, l'idea del Ministro Di Maio, basta negozi aperti. La domenica, la Repubblica, partiamo dalla parte alta della pagina, Libia, la guerra segreta dei droni partiti da Sigonella. E poi sui migranti, l'Europa gela l'Italia, Conte non firmo, piani già scritti. La stampa di Torino, anche qui si parla del vertice di Bruxelles, l'Italia avverte Merkel e Macron, possiamo chiudere le nostre frontiere. E poi, vedete più in basso, un altro titolo, il condono di Salvini, rottamare il 90% delle cartelle di Equitalia. Proseguiamo con il Sole 24 Ore, Unione Europea in ordine sparso su migranti ed Eurozona, cresce la tensione, anche il Sole 24 Ore affronta in prima pagina con il titolo principale questa vicenda. Conte, leggiamo nel sommario, potrebbe disertare il vertice di domenica sul problema migrazione, riforma Eurozona, la prova delle divisioni Nord-Sud, ok di Draghi. E commissione, poi passo indietro di Donald Trump, riuniti ai genitori, i bambini, messicani. Vediamo anche il fatto quotidiano, tagli ai fondi per i migranti. Salvini vuol ridurre da 35 a 20 euro la paga per chi li assiste. Conte, ispirato dal Ministro, minaccia l'Unione Europea, pronto a disertare. Il vertice, il manifesto, la linea Salvini-Isola-Conte in Europa, questo è il titolo nella parte alta della pagina. E poi il retrotramp, vedete il titolo di centropagina con corredo di foto. Dopo le critiche internazionali del Papa, la Casa Bianca fa marcia indietro e annuncia il decreto per la riunione degli oltre 2.000 bambini separati dai genitori e chiusi in gabbie alla frontiera con il Messico, ma per tanti minori l'inferno potrebbe continuare. La pagina nazionale, la prima pagina del messaggero, migranti, lo strappo dell'Italia, non firmiamo questa bozza. E poi il Canada, quest'altro titolo che non abbiamo trovato su altri quotidiani, il Canada legalizza la cannabis, permesso anche l'uso ricreativo. Vediamo anche il tempo, via il Duce, questo è il titolo di apertura del quotidiano romano, la Raggi fa votare una mozione che vieta di intitolare strade di Roma ai fascisti. Vediamo anche Libero, Di Maio non vuole si lavori la domenica, lui non sgobbava, manco nei feriali, scrive Libero. La verità, il quotidiano La Verità, dopo i porti il governo blocca le tasse, Salvini lancia la sanatoria per i debiti fiscali che piccoli imprenditori e artigiani schiacciati dalla crisi non riescono a pagare, ma se non è accompagnata da una vera riforma, è una misura iniqua e inutile, scrive il quotidiano La Verità. Avvenire, il giornale della CEI, nella stessa gabbia. Il Papa immorale dividere le famiglie di migranti, Trump si piega e i bambini resteranno con i genitori. E poi, vedete, più in basso si parla di fisco, in questo caso scovati i maxi evasori, si va al mini condono, la Guardia di Finanza trova 2 miliardi e 300 milioni non dichiarati, sanatoria sotto i 100 mila euro. Il secolo XIX, il quotidiano di Genova, l'Italia avverte pronti a chiudere le frontiere, i migranti sui respingimenti, scontro con Merkel e Macron con l'Italia. Questo era l'ultimo quotidiano preso in esame, possiamo tornare ai giornali di Casa Nostra, al centro, a pagina 2 si parla di imposte, perché questo è il periodo in cui si pagano le tasse, periodo di dichiarazione dei redditi, Imo e Tasi, come diminuire le sanzioni, con il ravvedimento però, se possibile, sanare diverse situazioni, tra le quali anche il pagamento di IRPEF, Ires e IRAP. E intanto arrivano 160 mila lettere ai titolari di partite IVA. Vediamo più in basso, invece si parla di turismo, perché la Saga, società di gestione dell'aeroporto d'Abruzzo di Pescara, punta anche sul turismo religioso. Il presidente Enrico Paolini incontra a Roma i vertici dell'opera romana Pellegrinaggi. Si parte in autunno. Sanità, l'incontro a Roma, assunzioni e macchinari, ecco le richieste al ministro. L'assessore Paolucci non si presenta, ma il suo direttore fa le domande al ministro Giulia Grillo. Muraglia, direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale, dice che occorrono personale e tecnologia. Lei ha promesso la sua vicinanza. E poi l'Avezzanese Gatti, nuovo segretario pensionati CISL. E poi in basso il processo ai dirigenti della regione, Sorgi, Flacco, Cauti e Micucci, crollano le accuse principali sugli appalti per l'energia. E siamo poi nella parte bassa della pagina. L'indagine su Rigopiano. Ginobili parla per due ore a IPM. Interrogato anche l'altro ex assessore, Sraur. Oggi tocca Chiodi. Mentre D'Alfonso sarà sentito il 28 giugno, perché la prossima settimana ci sarà lo sciopero degli avvocati. E allora possiamo andare a vedere il primo servizio dell'appuntamento di oggi con Mattino 6, che fa proprio il punto sulla giornata di ieri in Tribunale a Pescara, per quanto riguarda l'indagine su Rigopiano. Vediamo. Seconda giornata di interrogatori quest'oggi è Palazzo di Giustizia a Pescara, degli indagati per la tragedia di Rigopiano. Per questa seconda tranche di interrogatori erano previste oggi le audizioni, tra l'altro dell'ex presidente della regione Abruzzo, Ottaviano del Turco, che però ha presentato una memoria scritta, e dell'ex presidente vicario della regione Enrico Paolini, che invece si era presentato ieri dinanzi ai magistrati, in particolare al procuratore capo della Repubblica di Pescara, Massimiliano Serpi, e al sostituto Andrea Papalia. Come da calendario sono stati invece ascoltati gli ex assessori, Mimmo Sraur e Tommaso Ginobili. Sraur ha parlato per pochi minuti dinanzi ai magistrati, ha spiegato che l'ordinaria amministrazione di quel periodo storico della giunta del Turco, con le dimissioni proprio del Turco, non aveva consentito di predisporre la carta valanghe. Dopo Sraur è stato ascoltato l'altro ex assessore, Tommaso Ginobili. Suo interrogatorio è durato quasi due ore. Ginobili, accompagnato dall'avvocato Tommaso Navarra, ha risposto e ha spiegato ai magistrati il lavoro portato avanti in quel periodo. L'onorevole ha risposto a tutte le domande. Nel merito non diciamo nulla. Penso che questa inchiesta meriti un riservo e una pacatezza assoluta. Ma non si è non pacati però se si fanno domande, insomma, no? Assolutamente no. Il però è rispettoso sia della serietà, della gravità e dell'inchiesta non prendono una posizione in questo momento che potrebbe essere riduttiva della complessità delle posizioni. Quindi sostanzialmente non è una volontà di non rispondere, ma un rispetto doveroso all'inchiesta e a quello che rappresenta per questa ragione. Nei prossimi giorni ci saranno altri interrogatori. Domani toccherà fra gli altri all'ex presidente della regione Gianni Chiodi e agli ex assessori Giuliante e Stati. E poi lo sciopero degli avvocati previsto per la prossima settimana farà cambiare il calendario delle altre audizioni, degli altri interrogatori perché il presidente attuale della regione Luciano D'Alfonso potrebbe essere ascoltato non il 26 giugno come da calendario, ma il 28 giugno, il giorno successivo potrebbe toccare all'attuale sottosegretario alla giunta regionale, Mario Mazzocca. L'abbiamo visto anche dal titolo del centro, è proprio così, perché D'Alfonso verrà ascoltato non più il 26, ma il 28 di giugno. La due giorni dei comuni d'Italia di Maio torna in Abruzzo al congresso Anci Giovani, 400 amministratori under 35, si sono dati appuntamento a Chieti, tre presenti c'è De Caro, il presidente nazionale dell'Associazione dei Sindaci. E poi andiamo in basso, un'importante azienda abruzzese, la Dompe, festeggia i suoi 25 anni, l'azienda che ha il suo stabilimento all'Aquila Cresce, anche il presidente di Confindustria Boccia, alla cerimonia di questa mattina. L'Abruzzo chiama l'Europa, macroregione più vicina, parola del giurista Cassese, ieri a Pescara, in un convegno organizzato in comune a Palazzo di Città. Parliamo invece di cucina, lo chef Romito è tra i migliori 50, Angelo Bottura al primo posto nel mondo, successo anche per Crippa e Alaimo. Dunque anche i nostri chef continuano a farsi strada a suon di premi e di successi in campo internazionale. Parliamo anche di editoria, trasmissioni radio e tv, core come Rai, siglano l'intesa. Questa mattina ci sarà la conferenza stampa a Pescara per illustrare questa iniziativa. Siamo proprio alle cronache provinciali, partiamo da Pescara, inchiesta della Procura Acque Inquinate, Alessandrini indagato nel mirino del PM, un fosso per la pioggia che sfocia dentro Fosso Vallelunga. Il sindaco sarà interrogato nei prossimi giorni. Niente casa in affitto perché se i pescaresi studentessa denunciano la discriminazione subita a Trento, questo è razzismo, una sconfitta, ha detto la ragazza. Pagina successiva si parla dei parcheggi per il mare a Pescara, una vicenda che sta suscitando diverse polemiche. Area del Parco Nord, l'assessore Deodati ci riprova, riapre la trattativa con i proprietari, ma Alessandrini avverte le auto sulla strada parco se non c'è accordo. La cronaca che arriva sempre da Pescara, mora a 30 anni, si sospetta l'overdose, inutili soccorsi del 118 nella casa della droga, la polizia indaga per risalire. Allo spacciatore accaduto ieri pomeriggio in Viale Tiburtina a Pescara. Siamo sempre a Pescara, aperte 93 nuove attività con gli sconti sulle tasse, l'assessore Di Carlo svela i risultati definitivi del bando. Per la zona franca urbana sono 689 le imprese in periferia che otterranno gli sgravi su imposte e contributi. Se ne è parlato ieri nel corso di una conferenza stampa proprio in comune a Pescara, possiamo andare a vedere il servizio curato da Alfredo Primante. Attualmente abbiamo registrato una partecipazione molto consistente, pari a 689 imprese e professionisti che hanno fatto istanza, le cui domande sono state accolte dal Ministero dello Sviluppo Economico. Proprio nella giornata del 18 giugno 2018 è uscito ed è stato pubblicato il decreto direttoriale che ha pubblicato l'elenco di tutte le imprese e i professionisti di Pescara che hanno avuto questa grande opportunità. Il leader della zona franca urbana di Pescara è volta alla sua conclusione. Finalmente le imprese e i professionisti possono con grande gioia utilizzare questa quota loro spettante sotto forma di agevolazione fiscale, quindi decontribuzione e defiscalizzazione. E diciamo che questa quota è una quota immediatamente fruibile. Siamo in attesa del codice tributo che l'Agenzia delle Entrate dovrà comunicarci e che è riferita alla zona franca urbana di Pescara e con il quale codice tributo il professionista e quindi il delegato dell'impresa potrà attraverso l'F24 usufruire di questa agevolazione. Siamo sempre sulle pagine di Pescara del centro. La richiesta, vedete il titolo di spalla, la richiesta del consigliere comunale della lista Teodoro Massimiliano Pignoli, geratria affollata, porta il caso in commissione sanità. Piano antenne, i comitati sono favorevoli ma prosegue la battaglia contro gli impianti dei colli. Oggi il progetto in commissione ambiente e poi Fratelli d'Italia pronto soccorso, lavori bloccati. Questa è la denuncia dei consiglieri Guerrino Testa, Alfredo Cremonese e Massimo Pastore. Questa sera torna il giovedì unico a Pescara, tavolata da 500 posti a Pescara Vecchia. Maturità, la prova d'italiano, esami, vincono, solitudine, propaganda storica, ai ragazzi tra ansia e progetti, sognando un futuro da medico o ricercatore. Torna Mediterranea, degustazioni, corsi e gli ori dei musei. La manifestazione aprirà i battenti domani al porto turistico e sarà intitolato il padiglione proprio del porto turistico di Pescara all'indimenticato presidente della Camera di Commercio di Pescara, Daniele Becci, a cui sarà dedicato anche un concerto. Siamo in basso, di corsa al fianco dei campioni, sessioni di allenamento gratuite sulla riviera con fontana, incerti e balsamo. Successo del saggio di piccoli allievi della scuola on stage, spettacolo di danza classica al massimo, davvero belle le coreografie. Siamo a Montesilvano, dove come a Pescara si parla anche in questo caso di parcheggi sulla riviera, Stella Maris, 5 mila euro per aprire l'area di sosta. E intanto, per quanto riguarda i fotored, i famosi e temuti semafori che si trovano in alcune zone di Montesilvano con le telecamere che inquadrano persone che passano con il rosso. Il Comune è sotto accusa le multe per tappare i buchi, lo dicono contribuenti e il Movimento 5 Stelle. La vecchia scuola sarà trasformata in polo dell'infanzia. Siamo a Città Sant'Angelo, dal Comune 300 mila euro per i lavori di ristrutturazione dell'edificio di Madonna della Pace. Proseguiamo, ci spostiamo nella pagina dell'area metropolitana di Pescara, in particolare a Francavilla al Mare, riaperto il sottopasso di via Tirino in Contrada Pretaro a Francavilla. Via Moro e via Tosti urgono interventi, sale la protesta per strade e marciapiedi dissestati, erbacce e rifiuti. Il Comune promette presto lavori in via Bafile e nuovi cestini. San Giovanni Teatino, successo del premio musicale organizzato dalla Scuola Civica. E siamo alla pagina della Val Pescara e dell'area Vestina. L'acqua contaminata era nel distributore automatico. La San Benedetto S.p. ha partecipato alle analisi compiute dall'Asur Mar che su sei bottiglie e due sono risultate con alta concentrazione di idrocarburi. E poi il Masterplan Lavino, interdizione per l'architetto. E in basso siamo a Penne, Scuola Giardini stop ai lavori. Firmato il recesso all'impresa, l'edificio verrà ricostruito in via Caselli. E a Popoli il Comune rilascia la carta di identità elettronica. Proseguiamo, proseguiamo per spostarci a Chieti. Si parla di ZTL. Il Comune ora annulli anche le multe. La richiesta dei commercianti di via Toppi dopo la promessa del sindaco di Primio di cambiare gli orari di accesso al ZTL. E poi Nidi, marcia indietro. Due dei quattro riaprono le iscrizioni. Restiamo a Chieti. Viola, iniziative di prestigio al Palatricale. L'assessore allo sport si rivolge al Consigliere Costa. Struttura riqualificata sotto l'aspetto energetico. Bagnini in servizio sulle spiagge libere. Siamo a Vasto. Ordinanza del Circomare recepita da quattro comuni costieri. Cartelli ben visibili. Se il servizio di controllo non è garantito. E poi la cronaca ci porta a tollo. Tre ladri bloccati con 180 litri di gasolio. Trapano e avvitatrice. Sono ai domiciliari. In basso ci spostiamo al Guardia Grele. Bafile, il club alpino. Celebra l'eroe. Abruzzese. Teramo. I candidati al ballottaggio. Si avvicina l'appuntamento del 24 di giugno, quando ci sarà il ballottaggio. Conosceremo il nome del nuovo sindaco di Teramo. Gli sfidanti, Gianluido D'Alberto e Gian Donato Morra, sono d'accordo. Per il recupero si ripartirà dallo studio approvato in Consiglio, che non prevede. Gabbie, Sanità, Cardiochirurgia, tre nomi per scegliere il primario del reparto dell'ospedale di Teramo. E poi il lutto a Roseto degli Abruzzi, che dice addio all'assessore Frattari, è morto a 67 anni a Pavia, dove era ricoverato per una grave malattia. Oggi si terrà la camera ardente in comune a Roseto degli Abruzzi. Andiamo a vedere un'altra pagina del quotidiano Il Centro. Il cantoniere Soldi, a mia insaputa, il dipendente Anas accusato di aver intascato mazzette da alcuni imprenditori, non sapevo cosa ci fosse. Nella busta si difende in aula e nega di aver preso tangenti nell'incontro filmato dalla Finanza. Io persona onorato, ha detto il cantoniere. Ci spostiamo a Santomero, il The Hospital di Santomero intitolato ad Ester Pasqualoni, la dottoressa uccisa un anno fa. È morto Luciano Ricci, scrittore intellettuale, fu sindaco di Isola del Gran Sasso. E poi in basso siamo alla questione della sicurezza dell'acqua. Consegnati i progetti, la strada dei parchi e l'istituto di fisica nucleare rispettano l'ultimatum imposto da Lolli. Più avanti vedremo un servizio con la conferenza stampa. Per parlare della conferenza stampa è tenuta ieri dal forum abruzzese dell'acqua. Ma per il momento parliamo invece ancora di elezioni. Da Teramo ci spostiamo a Silvi. Anche qui si pensa al ballottaggio del 24. Scordella, il candidato Andrea Scordella del centrodestra, dice giunta trasparente e Comignani. Il mare, l'esponente di centrosinistra, il mare sarà per tutti. Atri, polemica social sul centro pedonale. L'assessore Astolfi, ex sindaco, dice per ora non si cambia. Siamo all'Aquila, in questo caso la pagina dell'Aquila, ma nella Marsica di Avezzano. Operaio precipita da sei metri e grave. Si tratta di un dipendente di 50 anni di una ditta esterna che stava eseguendo lavori sul tetto. Oggi sciopero fiom di due ore. L'ASL sospende dal servizio gallese e a Rioli Avezzano il provvedimento disposto a seguito dell'inchiesta con l'arresto di dieci persone sui falsi certificati. In basso siamo all'Aquila, De Matteis, genio civile, l'Aquila a rischio. Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia dice la questione non è chiusa, come dice Pietrucci. L'UGL accusa il PD. Sul Mona, agente aggredito con l'olio bollente nel carcere di Via Lamaccio, a lanciargli la scodella sul volto è stato un ergastolano con tutti i tre colleghi accorsi. Il suo aiuto, la solidarietà del ministro. Pescassero, il TAR rinvia la decisione su Deor e Gazebo. E poi all'Aquila rubano la borsa dell'assessore allo stadio. L'Aquila di Cosimo presenzia ad un torneo di calcio. Le telecamere incastrano i genitori di un ragazzo. E poi l'estate di Santo Stefano parte con il tango. Il borgo pedemontano del Gran Sasso si prepara la notte romantica in programma sabato prossimo. Siamo arrivati alle pagine dello sport, ma dobbiamo andare a vedere le pagine interne dell'inserto Abruzzo del Messaggero e poi le pagine del quotidiano La Città. Lo faremo tra qualche istante. Di nuovo in studio, seconda parte di mattino 6. Siamo alle pagine interne dell'inserto Abruzzo del quotidiano Messaggero. L'inchiesta di Rigopiano. Oggi Nobile parla soltanto con i magistrati. Sror, l'altro ex assessore della regione Abruzzo, all'uscita da Palazzo di Giustizia, ha detto che non poteva spendere per la carta valanghe. Oggi tocca all'ex presidente della regione Gianni Chiodi. Slitta l'interrogatorio di D'Alfonso. Cassese rimette in moto il tema delle macro-regioni. Ieri convegno in comune a Pescara. Sempre a Pescara, bimbi intossicati, spunta il formaggio. I riscontri delle analisi incrociate portano su questa pista. Indagini su un casificio locale, sospetti su una caciottina. Una bimba celiaca fu la sola della sua classe a non mangiarlo. E questo ha aiutato gli investigatori. No comment della procura. Zona Franca Urbana. Sono 689 le imprese ammesse. Abbiamo visto prima il servizio con l'intervista all'assessore del comune di Pescara, Simona Di Carlo. Automotive, l'esport vola, ma operai a casa. Boom a sorpresa nel pescarese, secondo la CNA. Ma tersigni della FIOM spegne le illusioni. Nessuna crescita. E poi nella sede di Confindustria, nuovo sportello di fondi impresa. I ragazzi raccontano la solitudine. Tanti studenti hanno scelto il saggio breve, artistico, letterario. Altri, quello su massa e propaganda. Emozionati, ma tranquilli. Ieri il primo giorno per quanto riguarda la maturità. E poi sanità. Pignoli, trovare una soluzione per l'affollamento a geriatria, lo chiede l'assessore comunale della lista Teodoro per Pescara. E poi sosta sulla strada Parco. Oggi si decide Catania, dove è la città del benessere, si chiede il presidente dell'associazione FIAB Pescara Bici. E poi poste, intesa con Amazon per la consegna di epacchi. E poi sospetta overdose, muore un trentenne a Pescara. Genti d'Abruzzo, il prof, chiede il rientro nel CDA. Il professor Alfredo Coppa ha inviato al presidente Roberto Mazzetti e ai consiglieri e ai soci fondatori una sua nota in cui contesta la decadenza da componente del CDA. Il mio esonero e illegittimo, dice Alfredo Coppa, in una lettera inviata ai vertici della fondazione mediterranea nel nome di Becci. La vetrina dell'Eno Gastronomia festeggia le 33 edizioni, una regata celebra invece i 30 anni del Marina di Pescara, il padiglione intitolato l'ex presidente proprio della Camera di Commercio. Daniele Becci. Festa della musica, il conservatorio con i bersaglieri sulla strada Parco. Un inno alla gioia, dice Patriarca, direttore del Luisa D'Annunzio. E poi, occhio alla multa, in arrivo due semafori con Fotored a Montesilvano. E poi Trento, affitto negato ad una universitaria pescarese. Vedete poi in basso, a Peregine, la Musea Colonna, le opere di 16 artisti a difesa dell'ambiente. Siamo all'Aquila, Piazza Duomo con gli alberi, come era nel secolo scorso. E poi, perdonanza dei Santi s'attacca, maggioranza irrispettosa. Uffici regionali, De Matteis in calza, Lolli e Pietrucci. E poi allarme del centro-sinistra, regionali vicine, occhio a stanziamenti, cliente rari. E poi la di Cosimo derubata allo stadio. L'assessore è riuscita a riavere la sua borsa, grazie alla polizia che ha rintracciato i ladri. Siamo alla seconda pagina dell'Aquila. Weekend per ammirare il nuovo emiciclo. Dopo l'inaugurazione di domani, aperture dalle 9 alle 20, previsti a seguire delle intere giornate. Di sabato e domenica, l'immobile restaurato e sorvegliato durante giorno e notte, l'Accademia delle Belle Arti ha curato l'allestimento dei dipinti. Festa internazionale della musica all'Aquila e notte con i libri. E poi, sempre l'Aquila, Petrocchi Cardinale, in tantissimi a Roma. Il 28 giugno, partenza dei Pullman, spostata da Piazzale della Meridiana a quello del centro commerciale Il Globo, perché saranno davvero tanti i fedeli aquilani che parteciperanno all'incoronazione da Cardinale di Monsignor Giuseppe Petrocchi. Alla ciaurata solidarietà pro-Venezuela con il teatro stabile abruzzese, cena spettacolo. E poi due titoli che riguardano lo sport, Nasce la Gran Sasso Calcio Giovanile e poi niente campo, il Moro Paganica rischia. Agente ferito da detenuto con olio bollente, siamo a Sulmonar, Gastolano Napoletano, la prima avvertito, io ti faccio fuori, poi gli ha gettato un contenitore addosso. Operato in ospedale, Mauro Nardella della Will, abbiamo superato il limite, ora deve intervenire subito il ministro. Buonafede e poi Sulmona, un concorso in piazza con Cirilli per Ovidio e poi l'inchiesta Maxi Truffa con Immigrati, gli atti tornano ad Avezzano. Sempre Avezzano, cade dal lucernaio grave, un operaio alla quarta evasione, arrestato e processato. Vertice tra prefetto e sindaco Caruso, Castel di Sangro e poi ancora Avezzano, Cardilli, Memorial Elezioni, di pronto intervento. Siamo a Chieti, ospedali boom di aggressioni, un corso per medici e infermieri, denunciati 30 episodi di violenza verso gli operatori, ma i casi sono molti di più. Sanità, nuovo policlinico, esposti ad Anac e Corte dei Conti. E poi in basso, Slow Food a Palazzo Zambra, alla Casina Miss e Mister Italia, picchiò ai poliziotti ed Evase, arrestato, pericoloso, latitante. Paesi all'asciutto, aumentano i disagi, siamo in provincia di Chieti, martedì scorso l'acqua era stata sospesa a Lanciano, nelle scorse settimane a Basto, oggi tocca a San Vito, cittadini e turisti protestano. E poi Perano, giunta assolta, nessun abuso d'ufficio è falso, niente dimissioni, Ortona, presa la banda dei romeni, che assaltava le masserie. E poi giro di visite, il segretario del Cosp, oggi al carcere di Vasto, e sempre a Vasto, ennesimo ride dei ladri, furto alla Fusion. Porto di Ortona, fiamme e feriti, ma fortunatamente è solo una esercitazione. Siamo a Teramo, maturità boom di saggi brevi, e oggi speriamo di copiare, di nuovo in classe, per la seconda prova, quella di indirizzo, lunedì, l'ultimo scritto. E poi, verso il ballottaggio, vedete il titolo di spalla, More d'Alberto, firma e impegno, per i quartieri di Teramo. Gran Sasso, bunker e radiazioni, nuovo esposto, del forum abruzzese dell'acqua. Ci sarà sabato, un sit-in a Pescara, ieri c'è stata la conferenza stampa, possiamo andare a vedere, dunque, il servizio. E' scaduto ieri l'ultimatum, dato dal vicepresidente della regione Abruzzo, Giovanni Lolli, all'INFN e a strada dei parchi, per presentare un progetto di messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso. Nel frattempo, da parte della mobilitazione per l'acqua del Gran Sasso, arriva un nuovo esposto alla procura di Teramo sulla sicurezza del sistema, prodotto anche grazie all'accesso agli atti effettuato nei mesi scorsi. I documenti acquisiti dalle associazioni ambientaliste, migliaia e migliaia di pagine, associazioni che hanno acceso i riflettori sulla pericolosità degli esperimenti realizzati nei laboratori sotto il Gran Sasso ormai da mesi, sono condensati in una quindicina di pagine che pongono alcune nuove questioni sul tavolo. Intanto c'è un rischio sismico molto importante, addirittura c'è una faglia attiva e capace che passa dentro i laboratori e nel passato geologico queste faglie si sono mostre anche di metri. Quindi non c'è solo il problema che gli apparati sperimentali sono stati progettati per reggere solo lo scuotimento, ma non il movimento proprio del terreno. Bisognava fare la microzonazione sismica di terzo livello e imporre delle fasce intorno a queste faglie di rispetto e questo non l'abbiamo trovato. Poi c'è un aspetto dell'esperimento Luna Mv, vogliono mettere un acceleratore di particelle dentro i laboratori, vogliono fare un bunker per schermare radiazioni con 80 cm di pareti, con 80 cm di spessore di cemento armato, questo fa capire anche il potenziale impatto. Questo però è vietato dalla legge perché è una macchina radiogena che non può stare vicino ai punti di cappazione. Infine abbiamo chiesto tutte le autorizzazioni perché lei è in un parco nazionale, le valutazioni di incidenze ambientali dei diversi esperimenti e anche i permessi edilizi. Nei comuni di Isola del Gran Sasso e l'Aquila e nel parco del Gran Sasso non abbiamo trovato nulla o meglio ci hanno risposto che loro non hanno nulla. Il perché di tante mancanze, anche burocratiche, dovrà essere accertato da parte della magistratura, ma per la mobilitazione dell'acqua del Gran Sasso resta primaria ed urgente, al di là di tutto, la messa in sicurezza dei laboratori e la conseguente salvaguardia dell'acqua che bevono migliaia di cittadini abruzzesi. Per questo sabato prossimo a Pescara, davanti alla sede della regione in Viale Bovio, ci sarà una manifestazione con un sit-in di protesta. Per chiedere il varo della carta di perimetrazione delle aree di salvaguardia per l'acqua potabile, cioè dove si devono mettere dei vincoli per salvare la nostra acqua che beviamo tutti i giorni e per far allontanare le sostanze chimiche pericolose perché non ci può essere messa in sicurezza se non si passa almeno dall'allontanamento delle sostanze pericolose che costituiscono il pericolo più grande per l'acqua di 700.000 persone. Siamo a Giulianova, Lido delle Palme. L'Oasi si farà via libera della provincia alla ripresa dei lavori dopo 10 anni. E poi vedete la fotonotizia. Esther Pasqualoni all'oncologa uccisa. La ASL intitola un reparto dell'ospedale di Santomero. E poi Park alla Madonna dello Splendore caos auto e vigili che non intervengono. Vongole contaminate, verificate i depuratori di Roseto e Pineto. Questa è la richiesta del cogevo. E poi a Roseto per la scomparsa dell'assessore Antonio Frattari. Aveva 67 anni. Abbiamo visto anche prima altri titoli anche sul centro. Antonio Frattari che lascia la moglie e due figli di 38 e 32 anni. La Salma rientrerà oggi a Roseto e dalle 17. Sarà esposta nella Camera Ardente allestita nella Sala Consigliare al terzo piano del municipio di Roseto. Siamo ad Alba Adriatica, ciclabile per Corropoli. Aperto il cantiere. Siamo arrivati anche in questo caso alle pagine dello sport. Ma dobbiamo ripartire dal quotidiano La Città per parlare di cucina, di enogastronomia. Romito scala la classifica del World Best. Il ristorante reale si piazza al 36esimo posto nella classifica dei ristoranti più influenti nel mondo. E poi incontro sulle strategie per rilanciare il turismo. Destinazione Abruzzo. E poi doppio esposto contro il Project Financing per il nuovo ospedale di Chieti. Interrogatorio protetto per la bimba molestata. Gli inquirenti vogliono conoscere lo stato psicologico della piccola e sentire da lei come sono andate le cose. In chiesta su Rigopiano. Ginobili risponde a tutte le domande dei magistrati. In basso a Montorio. L'esercitazione di protezione civile con le unità cinofile. Tre giorni di attività con le simulazioni di ricerca tra le macerie e spegnimento di incendi e prove di evacuazione. E' vero, voto e faccio votare ad Alberto Clamoroso. Vinicio Ciarroni, ex segretario del sindaco Brucchi, svela il suo appoggio al ballottaggio. Pioggia di critiche sull'onorevole Berardini. Il deputato del Movimento 5 Stelle non dà indicazioni di voto ma dichiara che non si recherà alle urne per il ballottaggio. Antonio Zennaro intanto entra in due commissioni. Il tortoretano del Movimento 5 Stelle sarà al bilancio e alle finanze. Morre e d'Alberto firmano il patto sui quartieri. Parliamo ovviamente del ballottaggio di Teramo del 24 giugno. Entrambi i candidati sindaco si impegnano a prendere in considerazione le proposte dei comitati. Covelli verso il rientro naturale nel centro-destra. Per il candidato civico non c'è altra scelta che Morra di Dalmazio conferma invece la libertà di voto. Prosegue lo stancheggio su chi dovrebbe incarnare la novità. Rossi di Fratelli d'Italia dà del testa di legno a Dalberto. Corre insieme. Corre, scusate, di insieme. Possiamo, ricorda, l'autosfiducia dei gattiani su Brucchi. Anche cardiochirurgia. Il suo primario, Michele Trigiani, d'Alecco, primo nella cinquina di professionisti stilata dalla ASL per la dirigenza di questo importante reparto dell'ospedale Mazzini di Teramo. Siamo alle pagine della provincia. Non ho mai chiesto denaro per il mio lavoro. Processo per presunte mazzette al funzionario Anas. L'imputato ammette di aver accettato solo dei regali. Nessuna truffa è davvero cieco. Ha confermata la soluzione per Chiappini e poi in basso approvato il programma di finanziamento per i produttori di tartufo. Bellante, via Togliatti, protesta per il degrado. L'unico giardino pubblico della stazione è abbandonato a se stesso, senza alcuna manutenzione. Acqua sicura. Tante altre criticità nel cuore del Gran Sasso. Il forum per le acque presenta il nuovo esposto sulla sicurezza nei laboratori e nelle gallerie. Abbiamo appena visto il servizio. Andiamo ancora avanti. Controguerra. Una festa magica per l'apertura di Idea 18. Ospiti d'eccezione e spettacoli dal vivo in un panorama unico per il locale di Illuminati e Scaramucci. L'anniversario. Un anno dalla morte della dottoressa Esther Pasqualoni. Preghiera in titolazione del Dei Ospital Oncologico in memoria della dottoressa uccisa dal suo stalker. Via Libera, i primi Deor nel centro storico di Tortoreto. E poi in basso, a Martinsicuro, le vongole minacciate dal ripascimento ricollocate in altre zone di pesca. Alle operazioni coordinate dalla Guardia Costiera di Giulianova. Preso parte anche l'assessore regionale Dino Pepe. Andiamo a vedere un'altra pagina del quotidiano La Città. L'annunziata chiede attenzione alle istituzioni. Siamo a Giulianova. Grido d'allarme per le tante questioni risolte dalle passerelle da rimuovere alle aree verdi al buio. Lutto a Rossetto degli Abruzzi. È morto Antonio Frattari, assessore socialista. L'amministratore politico è scomparso a causa delle complicanze di un intervento chirurgico. Colleghi avversari lo ricordano come un uomo mite, sempre disposto al dialogo. Camera ardente in comune, funerali sabato a Voltarrosto. Ambiente, discarica cielo aperto alla foce del Vomano. Pineto 2.0 segnala la bomba ecologica fatta di spiaggiato, elettrodomestici e rifiuti. Di ogni genere, Pineto. Serata di gala per il Festival della Creatività. E poi andiamo in basso. Ancora a Rossetto, un circolo che si farà portavoce delle istanze e dei bisogni dei rossetani. Ieri sera la presentazione di azione politica Roseto degli Abruzzi, referenti Franca Berardinelli e Andrea di Stanislao. Silvio al ballottaggio. Si parla ovviamente delle elezioni di domenica 24 nella città adriatica. Il candidato sindaco Scordella in questo caso propone un patto giallo-verde. Abbiamo 10 punti in comune nel programma. In basso, Comignani, dall'altra parte, Bacchetta all'avversario sul confronto mancato. Intanto rilancia il progetto del mare per i disabili e le loro famiglie. Andiamo a vedere un'altra pagina del quotidiano La Città. Non dimentichiamo le aree fragili. All'Università di Teramo la presentazione del libro di Rita Salvatore ed Emilio Chiodo. E poi, dopo il diluvio, 200 opere in mostra a vasto raccontano l'arte di Filippo Palizzi. La voce di Amalia Gray in Canta Palazzo Melatino. Grande serata di musica a Teramo per il concerto organizzato nella sede della Fondazione Tercas. In basso siamo a Cerrano. Terza edizione per la Cerrano Cup. Regata velica nell'area Marina Protetta. Due le iniziative che animeranno le acque di fronte al Parco Marino il prossimo 24 giugno e nel weekend dell'8 luglio. Siamo arrivati alla pagina dello sport che riguarda il Teramo. Teramo-Candeloro, cosa è andato storto? Trattativa tramontata definitivamente. Ma le responsabilità andrebbero equamente divise. In basso Teramo Basket 1960. Ecco le ragioni degli addi di Salamina e Nolli. Andiamo a vedere le pagine dello sport del quotidiano Il Messaggero. Tutino che bomber e piace al Pescara. Attaccante 21enne del Napoli. Ha spinto il Cosenza in Serie B con 11 reti e 5 assist esterno centrale. Ha fatto impazzire l'Adriatico sabato scorso nella finale contro il Siena. Supercoppa. Luparenze si ritira. Lacque Sapone cambia avversaria. Luparenze si pone avversaria nella finalissima Scudetto. Poi vinta dalla formazione abruzzese. E siamo al volley. Lupo e Nicolai via al World Tour. La coppia d'oro del Beach rientra nel circuito. Intanto in Serie A la secortona completa. La rosa. Conti dice sì al lavoro per l'Aquila. Vertice in sede e poi la fumata bianca. Gulluni fuori dal CDA. Piace mister Palazzi. E ieri c'è stata la visita di Bruno Conti all'Aquila. Possiamo andare a vedere dunque il servizio. Prima visita allo stadio Gran Sasso di Gianluca Ius. L'imprenditore romano intenzionato a rilevare l'Aquila Calcio con un progetto sportivo che coinvolge anche l'ex bandiera della Roma e campione del mondo Bruno Conti. Anche lui presente al Gran Sasso. Parlerò dopo l'incontro a detto Conti. Mentre si ferma con la stampa Ius che conferma le sue intenzioni e a patto che i vecchi soci paghino il debito. Posso occuparmi della nuova gestione e non del vecchio, dice Perentorio. Di linee l'accordo c'è. Bisogna soltanto limare e sistemare alcune cosette che sono venute fuori come era ovvio che venissero fuori. Perché era chiaro. Pensavano fino all'ultimo giorno che scherzassimo. Hanno capito che facciamo sul serio e ovviamente hanno tirato fuori tutte le capi. Tutti sono queste forme ricattatorie che sono uscite fuori dal... Quando si stava per firmare l'accordo è uscita fuori che gli altri creditori, tutti quanti, tutti insieme vogliono fare... Insinuarsi nell'istanza di fallimento ingolfando di conseguenza la società. Perché se c'è un'istanza di fallimento per 70.000 euro, un conto sono 70.000 euro, un conto sono 600.000 euro. Quindi è chiaro che uno se deve fare un risanamento o io pago la stagione o si pagano i debiti. Secondo me io preferisco pagare la stagione perché voglio prendere una società che abbia un futuro e non pagare i debiti pregressi. Perché pagare i debiti pregressi significa far morire la società oggi e non darle continuità. Io faccio business e faccio aziende e quindi l'azienda deve andare avanti. L'Aquila Calcio produce calcio, quindi dobbiamo fare calcio, non pagare i debiti vecchi. Il nuovo CDA sarà presentato a breve con persone da lui indicate. Devecchi resterà solo l'avvocato Gulluni, traghettatore del passaggio di mano. Speranzosi i tifosi che auspicano che il progetto vada a buon fine. Credo che a questo punto il problema fondamentale sia l'accordo fra la parte uscente e quella entrante. Cioè vedere la situazione che c'è da parte dei vecchi soci, creare un incontro con gli US che non so se ci sarà o se c'è mai stato e vedere quello che si può fare. Certo l'Aquila è un patrimonio della città, sono 90 anni di storia. Non possiamo assolutamente perderlo. Poi una città come l'Aquila che rinasce da un evento tragico come quello del 2009 non può assolutamente non ripartire dal tessuto sociale che può essere lo sport, che è importantissimo. È chiaro che però questa è una situazione che va stretta, va risolta. Se i US è in grado di entrare perché trova una situazione per poter portare il suo nuovo progetto, ben venga. Ci sono dei nodi da sciogliere, lo sappiamo tutti quanti. Speriamo bene. Siamo alla Serie C, al Teramo con Candeloro. Nessun incontro, vedete il titolo dell'articolo di spalle. Il presidente del Teramo, Luciano Campitelli, risponde ai tifosi. Mai presentate offerte. Poi la consueta pagina del giovedì sul messaggero dedicato alla Wisp. Ecogas campione, i gialloblusi aggiudicano a Luco De Marsi. La Coppa Abruzzo Wisp, edizione 2018. Andiamo a vedere le pagine dello sport del centro. Pescara, Mirino, Succresi, Cidei, Litteri e Lamantia. Il difensore dell'Atalanta piace, ma c'è da battere la concorrenza della Cremonese. Gli agenti di Melchiorri vedono il Carpi e il Delfino Sonda, il bomber del Venezia, ovvero Litteri. E l'attaccante della Virtus Entella, Lamantia. Piace strizzolo del Cittadella. E intanto, per la procura della FIGC, è tentato illecito. Il Parma rischia la promozione in Serie A. Vediamo un'altra pagina del quotidiano del centro. Anzi no, vediamo prima in basso l'articolo con l'intervista all'ex direttore sportivo del Pescara, Daniele Dellicarri. Il centroavanti ideale è Montalto, con Morosini e Clemenza alle sue spalle. Pillon avrebbe un attacco devastante, dice Dellicarri. Teramo, Ilari verso l'addio, il Portenone lo corteggia, il padron Campitelli, nessun nuovo socio. Ma l'iscrizione non è a rischio. E poi Conti, l'Aquila avrà una grande squadra, l'ex bandiera della Roma farà il consulente esterno. Ma bisogna essere seri. Serve pazienza, abbiamo visto appena il servizio di Germana Dorazio. Boldrini all'Avezzano, siamo alla Serie D. Francavilla piace il portiere Camerlengo attualmente in forza alla Vastese. E poi Lorenzi incanta l'Aquila e Moroni vola i quarti. Internazionali di tennis sconfitti gli spagnoli Martinez e Boluda Parkis. Andiamo in basso. Vela, Cerrano Cap e Veleggiata, Domenica Silvi e Pineto. E poi Atletica, sabato e domenica a Sulmona, 400 atleti agli assoluti su pista. Possiamo andare per chiudere e vedere le prime pagine dei quotidiani sportivi. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Ronaldo vola, Messi rischia. Cristiano Ronaldo padrone, segna il quarto gol. Argentina, c'è Mandzukic di fronte, ovvero la Croazia. E poi l'Inter prende il Ninja. Nainggolan è fatta, ora Dembélé. Tentativo per Suso. La Juve chiude Cancelo con il Valenza. Intesa ad un passo. Milan e Gigio che esami. La sentenza UEFA si fa attendere. Donnarumma sceglie il tema. Su Bassani, Donnarumma portiere del Milan impegnato con la maturità. Siamo al Corriere dello Sport. Love Goat. Quarto gol nei mondiali per Cristiano Ronaldo. Fabian è a Napoli. Da ieri in città il secondo acquisto di De Laurentiis. Chiudiamo con tutto sport. Juve Cancan, oggi Emre Can, poi Cancelo. E poi in alto il Napoli è scatenato. Dopo Verdi presso Ruiz. Torino, Acqua e Obivia per far posto a Barac. E poi vedete in basso, vi dicevo, SMS, scusate, allo Spezia, Parma e Calaio a processo. Serie A in bilico. Ma il messaggio è risibile da come leggiamo in questo sommario dell'articolo di Tutto Sport. Ma c'è questa inchiesta che mette in forza, come abbiamo visto anche dagli altri quotidiani, almeno al momento, la promozione del Parma in Serie A. E siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Mattino 6 che tornerà domani come sempre puntuale alle 8. Io ringrazio Silvia Gentile in regia, ringrazio voi per averci seguito. Vi rinnovo l'appuntamento alle 14 come sempre con la prima edizione del nostro telegiornale. Poi questa sera non perdete il consueto tradizionale appuntamento del giovedì alle 21 in diretta dai nostri studi con Velo condotto da Jacopo Forcella. Con la partecipazione di Luciano Rabottini. È davvero tutto, buona giornata. Grazie a tutti.